Con il voto unanime dei 16 consiglieri presenti in aula, Mariotti Bottini, Galanello, Barberini, Riommi, Cintioli, Smacchi, Marini, Bracco, Locchi, Dell'EPD, Rometti, Socialista, Goracci, Comunista Umbro, Sufra, Rifondazione Comunista, Dottorini e Bruti, Italia dei Valori, Cirignoni, Umbria, Popolare, l'Assemblea Legislativa ha approvato una mozione che impegna la Giunta regionale a ribadire al governo la propria contrarietà, al tracciato del gasdotto Brindisi Minervio e alla realizzazione della centrale di diramazione col fiorito così come individuati nel progetto di Snam Rete Gas. Il documento di indirizzo firmato da Maglio Mariotti del PD, Oliviero Dottorini dell'Italia dei Valori, Damiano Stufa della Rifondazione Comunista, Lamberto Bottini, Luca Barberini, Andrea Smacchi del PD impegna l'esecutivo di Palazzo Donini a chiedere al Ministero per lo Sviluppo Economico di dare continuità operativa e funzionale al tavolo tecnico istituito a seguito della risoluzione della Commissione Ambiente della Camera con il compito di individuare un tracciato alternativo a quello del progetto Snam Rete Gas, a formalizzare sempre alla Mise il diniego della regione a procedere alla convocazione della conferenza dei servizi per la definizione dell'itere autorizzativo sul gasdotto prima della conclusione dei lavori del tavolo tecnico, ad attivarsi unitamente alle altre regioni coinvolte per promuovere in sede di conferenza Stato-Regioni un approfondimento sul progetto complessivo del gasdotto e a trasmettere all'Assemblea Legislativa e alla Commissione Consiliare Competente la relazione sullo stato di attuazione della delibera consigliare 203 del dicembre 2012, riconsiderazione del progetto di gasdotto e convocazione straordinaria della conferenza Stato-Regioni per promuovere in quella sede gli approfondimenti necessari. Il progetto di Snam Rete Gas prevede l'attraversamento per circa 687 chilometri del territorio di sette regioni e l'installazione di centrali di compressione gas e centraline di diramazione, una delle quali proprio a Colfiorito. Gran parte del tracciato si snoderebbe lungo dorsale appenninica, in zona d'alto rischio sismico e di particolare pregio ambientale, culturale e paesaggistico. Il tracciato progettato prevede l'attraversamento dell'Umbria per una lunghezza di circa 120 chilometri nei territori di Cascia, Norcia, Precise, Lano, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello.